Cucu! Ciao! Ciao bambini! Oggi è la festa del papà e vi ho preparato una storia bellissima da raccontare. Con me c'è anche Pippo che non manca mai. Pippo vi vuole salutare e anche lui ha preparato una bellissima storia da raccontare al suo papà e la racconta con me. Allora questa è la storia di re e regine. Anche i re e le regine giocano, mica soltanto i bambini. Proviamo a vedere questo libro speciale. Allora, pronti? C'era una volta il libro dei re e delle regine. Il re giocondo gioca a spalla con il mondo e la regina Isabella gioca sempre con una stella. Il re di Ceresone gioca palla con il sole e la regina del tempo perso gioca con l'universo. Il re di Palemuro gioca con il tamburo. E il re Serena gioca con l'arcobaleno. la regina Viole. Lei gioca con le Viole. E tu papà, che sei il mio re, giochi sempre assieme a me. Ciao, tanti auguri papà!